Signore e signori benvenuti a questo nuovo video news Come potete vedere anche dal titolo Questa è una news unica Cioè in senso è solo una Perché ho notato che alla fine preferite Vabbè il costo sms è di 7,68€ Cioè non è costato niente il mio credito è 7,68€ Perfetto Buona sapersi Non ci interessava quindi andiamo avanti Comunque come avete capito Questa è una singola news Perché a quanto pare preferite le singole news Rispetto al mashup di news Quindi cominciamo Eventi dove ottenere il biglietto eone Qui c'è scritto tutto quello che dovete sapere Sul dove, il quando e soprattutto perché Vabbè il perché lo sappiamo Ci siano persone che ti potranno dare il biglietto eone E quindi incominciamo subito Allora sì sono tutti da dicembre Oggi per esempio partiamo da Bastia Umbria Che proprio oggi dal 4 all'8 dicembre Luogo Piazza Moncada A Bastia Umbria Non c'ho nemmeno dove sia a Bastia Umbria Perché insomma sono un po' ignorante Comunque si poi dal Poi si parte Poi Marghera Marghera Dov'è? Padiglione Antares Vega Parco Scientifico Ma dove siamo? Vabbè Mano Torinato ce l'ho presente Roma Street Pass Meeting di Roma Luogo Via di Casabruciato 11 Roma Vabbè dettagli eventi ovviamente dovete cliccare qui Ma noi non possiamo cliccare qui Anche perché non possiamo cliccare qui Comunque avete il Come possiamo dire Avete l'indirizzo Avete l'orario Avete la data Andateci se potete Io rimarco qui perché ho altro da fare Purtroppo Perché sono un po' Ro sfigatello E quindi Mi sto zitto Insomma Poi sempre a Roma Ne abbiamo un altro Quindi per chi abita Dalle parti di Roma Molto contento Ma una Presa è Messina Signore e signori Messina ne ha ben due Nello stesso posto In due giorni diversi Ossia il 20 dicembre Dalle ore 17 Per quanto riguarda La Premier Challenge Videogio di Pokémon Che praticamente è L'evento che si fa Il giro di Dell'Italia E quindi metta a disposizione Questi bigliettioni E poi c'è il campionato Cittadino Del gioco di carte collezionate Di Pokémon Perché loro ce l'hanno E noi no Ma uffa Che sarà il 21 dicembre Alle ore 11 Io cercavo Tutti che andassero Dopo Il 18 dicembre Perché il 18 dicembre Ho un esame Quindi prima Non posso fare altro Che rimanere a casa E Andiamo avanti Ci sono tutte Le prossime Vede Del Premier Challenge In cui è possibile Ottenere il biglietto E quindi stiamo parlando Di gennaio Palermo Novara Anversa Vicino a Napoli Ah no Quella è Ok niente Stavo pensando A un film Trieste Pesaro Stavo per dire Pesaro Pesaro Acireale Adesso C'è un forum Adesso vi faccio vedere Perché posso farvelo vedere Credo Sì signore Tornando indietro Sì Un film dedicato Che è Pokemon.expert Dicendo Dicendo Mi manderà Che vi manderà O arriverà In quel posto Con il coso Del biglietteone E potete far cominciare La vostra avventura Spargendo Il seme Del biglietteone Comunque Questa era la news Ho cercato di essere Il più Esauriente possibile Quindi vi ho detto Come ottenerlo Dove ottenerlo Se volete diventare Pokemon Master Come farlo Allora ragazzi Ci vediamo Alla prossima News È morto Tutto